Ciao a tutti amici e benvenuti a questa nuova lezione d'italiano. Sono molto felice di essere qui con voi e spero che la vostra vita sia meravigliosa. Oggi ho preparato alcune frasi molto utili con il verbo parlare, che è molto utilizzato nella lingua italiana. Il verbo parlare si presenta principalmente nella seguente forma. Parlare di qualcosa con qualcuno. Significa hablar de algo con alguien. Parlare di qualcosa con qualcuno. Ma andiamo a leggere le frasi con il verbo parlare coniugato al presente indicativo. Sono appena arrivata in Italia e non parlo bene l'italiano. Oppure se sono un uomo, sono appena arrivato con la O final. Arrivato parlare l'ombre. Arrivata si sono una mujer. In Italia. E non parlo bene l'italiano. Significa acabo de llegar. Però la traduzione letterale seria è appena llegato a Italia e non hablo bene l'italiano. Ah, chiedo ricordare una cosa molto importante. In italiano arrivare, il verbo arrivare costruisce il suo passato con l'ausiliare essere. Por esso tu rinquentras sono arrivato o sono arrivata in ho arrivato. Perché? In italiano è il verbo de movimento. Neste caso arrivar, che seria gegar, costruisce il suo passato, i suoi tempi composti con l'ausiliare e essere, ok? Mu' importante, di fiere dell'espagnol. Quindi, per avere adesso un'intonazione migliore, lo ripeto. Podriamo hasta, si te gusta, podriamo agnadir, lo siento come si disculpa a cabo de llegar, ok? Proviamolo. Mi dispiace, sono appena arrivato in Italia e non parlo bene l'italiano. È come si lo siento, non hablo muy bien. Quindi è una frase molto utile. Mi dispiace, sono appena arrivata in Italia e non parlo bene l'italiano. Andiamo a vedere la seconda frase. Scusami, per caso parli la mia lingua? Scusami, per caso parli la mia lingua? È molto importante, ok? Utilizzare, pronunciare ogni fonema, ok? In maniera da avere una pronuncia, un suono molto fluido, però anche comprensibile. Scusami, per caso parli la mia lingua, la mia lingua? Un consejo, una sugerenza, per parlare l'italiano è necessario muovere molto bene l'occhio della bocca. L'occhio, la bocca, la lingua, hai che muovere l'occhio bene. Io anche, se la tengo, no? È come se parlare di forma meno comprensibile. Invece, io anche muovo molto la bocca per parlare bene, ok? Per che le fonemas me salgano bene? Quindi, con una migliore intonazione. Scusami, per caso parli la mia lingua? Scusami, per caso parli la mia lingua? Disculpa, di casualità, hablas mio idioma. Quindi anche questa è una frase utile. Come puoi vedere? Che sto facendo io? Stiamo utilizzando il verbo hablar al presente indicativo. Quindi la prima frase tratta della prima persona singolare. la seconda frase della seconda persona singolare. Y, praticamente, vamos a ver la conjugazione del presente indicativo con varias frases, ok? Con il verbo hablar. La terza frase. È colombiano, ma da quando vive in Italia parla italiano. È colombiano, ma da quando vive in Italia parla italiano. Che significa? È colombiano. Però, desde che vive in Italia habla italiano. Oppure, se è una donna, è colombiana, ma da quando vive in Italia parla italiano. Adesso con una migliore intonazione. È colombiano, ma da quando vive in Italia parla italiano. Oppure, parla italiano perfettamente. Sarebbe, veramente, una cosa fantastica. Anche noi parliamo con la nostra famiglia via Skype. Anche noi parliamo con la nostra famiglia via Skype. È importante pronunciare bene il fonema che, 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 che che tal vez haya emigrato o esté vivendo qui in Italia. Por eso las hice con mucho cariño para ustedes. La altra frase. Da quanto tempo non parlate con i vostri amici in Colombia? Di acuerdo che in è la preposizione corretta per i paesi e nazioni, mentre a è la preposizione corretta per le città. Quindi, da quanto tempo non parlate con i vostri amici in Colombia? Da quanto tempo non parlate con i vostri amici in Colombia? Hace quanto tempo non parlate con i vostri amici in Colombia? In Colombia è giustamente lo che io quise dire. Non quise dire amici colombiani, quise dire amici come dire che vivono in Colombia, ok? Per dar più sentito alla frase. Otra cosa importante. Por che in italiano si utilizza non? E non semplicemente no. In italiano, in spagnolo si dice non parlate. Hablas. Por che non hablas? In italiano, in cambio, tenemos que utilizzare non. Por che si tratta di una negazione dentro di una frase. Después hai un verbo e è importante utilizzare la n final. Mientras in italiano la unica forma di decir no è quando di forma secca decimos Te gusta eso? No, ok? Questa è molto importante. Andiamo a vedere la prossima frase. I nostri figli parlano perfettamente la lingua italiana. I nostri figli parlano perfettamente, quindi non è perfettamente con due t, perfettamente la lingua italiana. Nuestros hijos hablan perfettamente la lingua italiana o l'idioma italiano. I nostri figli parlano perfettamente la lingua italiana. I nostri figli parlano perfettamente la lingua italiana. Allora le ripeto un'altra volta e poi passiamo al passato prossimo, se ha il preterito perfetto Sono appena arrivata in Italia e non parlo bene l'italiano Scusami, per caso parli la mia lingua? È colombiano, ma da quando vive in Italia parla italiano Anche noi parliamo con la nostra famiglia via Skype Da quanto tempo non parlate con i vostri amici in Colombia? I nostri figli parlano perfettamente la lingua italiana Ok? Spero che queste frasi siano molto utili Adesso andiamo a vedere le frasi che ho preparato con il passato prossimo Seria preterito perfetto Ho parlato con il mio professore di italiano E mi ha detto che la mia pronuncia è migliorata Ho parlato con il mio professore di italiano E mi ha detto che la mia pronuncia è migliorata Ho parlato con il mio professore di italiano E mi ha detto che la mia pronuncia ha migliorato Notare anche in questo caso è migliorata Utilizza il auxiliar Ok? Essere Ser e non aver come in spagnolo Perché? Perché in italiano lo ripeto Los verbos de movimento Los verbos de cambiamento Utilizzano praticamente L'auxiliar Essere Quindi ser Essere in italiano Per costruire i tempi composti Parlare invece In cambio Coerentemente Utilizza l'auxiliar Aver Come tambien Quindi in spagnolo E avlato Ho parlato Quindi Ho parlato con il mio professore di italiano E mi ha detto che la mia pronuncia è migliorata Quindi è una cosa molto bella E io te deseo realmente De tenere exito con tu pronunziazione Ciao Nathalie Hai parlato con il tuo datore di lavoro? Ciao Nathalie Hai parlato con il tuo datore di lavoro? Ciao Nathalie Hai parlato con il tuo datore di lavoro? Significa Hola Nathalie Has hablato con tu datore di lavoro? Literalmente Però significa jefe Ok? La persona che te dà il lavoro Eso significa datore di lavoro La persona che te dà Ti offre il lavoro Entonces Digamo il duegno della tienda O il jefe Ok? Luca ha parlato di te al suo capo E gli ha consegnato il tuo curriculum Luca ha parlato di te al suo capo E gli ha consegnato il tuo curriculum Significa Luca ha parlato di te al suo chefe Quindi speriamo che la persona interessata possa trovare un nuovo lavoro in Italia La altra frase Io e la mia fidanzata abbiamo già parlato del nostro possibile ritorno in Venezuela Come vedo Come vedo Stoio intentando di immaginarmi tutte le situazioni No? De tot tipo Non è facile Però spero realmente che les agrada ese tipo di immaginazione che tengo Ok? Quindi Io e la mia fidanzata abbiamo Abbiamo con due B Già parlato del nostro possibile Con due S Possibile ritorno in Venezuela Io e la mia fidanzata abbiamo già parlato del nostro possibile ritorno in Venezuela Gio e mi novia Emo già parlato del nostro O cerca del nostro possibile regresso a Venezuela In che lingua avete parlato ieri al consolato? In che lingua avete parlato ieri al consolato? E in che idioma hanno parlato ieri al consolato? Al consolato è corretto Perché al è la preposizione corretta che in italiano utilizziamo con consolato Quando tenemos che decir en el consolato Che noi diciamo al consolato Come también al ristorante In nostra lezione sicuramente lo avranno notato Quindi non sempre si utilizza come un spagnolo en el Quindi nel Sino che a veces al ristorante, al supermercato, al consolato E' costumbre italiana utilizzare al In che lingua avete parlato ieri al consolato? Ovviamente In che idioma hanno parlato ieri al consolato? Nota per ieri spagnoli di Spagna Seria in che idioma avete parlato ieri? Ok? Nicola e Maria hanno parlato a lungo dei musei vaticani Nicola e Maria hanno parlato a lungo dei musei vaticani Nicola e Maria hanno parlato molto tempo Dello museo vaticano O cerca dello museo vaticano Quindi Nicola e Maria hanno parlato a lungo dei musei vaticani Molto bene, adesso ripeto rapidamente le frasi del passato prossimo Ho parlato con il mio professore di italiano E mi ha detto che la mia pronuncia è migliorata Ciao Natalie, hai parlato con il tuo datore di lavoro? Luca ha parlato di te al suo capo E gli ha consegnato il tuo curriculum Io e la mia fidanzata abbiamo già parlato del nostro possibile ritorno in Venezuela In che lingua avete parlato ieri al consolato? Nicola e Maria hanno parlato a lungo dei musei vaticani Molto bene, spero realmente che queste frasi siano state utili Adesso affrontiamo il terzo La terza forma verbale più importante in italiano Che è il futuro semplice Quindi la forma verbale in assoluto più importante in italiano È certamente il presente indicativo Poi abbiamo il passato prossimo, il pretenito perfetto E il luogo, come terzerno Come terzero E il futuro simple Quindi futuro semplice Iniziamo con la prima frase Domani parlerò con il mio coinquilino Della mia intenzione di cambiare casa Domani parlerò con il mio coinquilino Della mia intenzione di cambiare casa Mañana parlerò con la persona che comparte la casa O, diciamo, la abitazione O eventualmente l'appartamento De mia intenzione di cambiare casa O demudarme, praticamente Un'altra, un'alternativa In cambio a decir Della mia intenzione Podemos decir Circa la mia intenzione Che è muy similar a Cerca de In español Quindi Domani parlerò con il mio coinquilino Della mia intenzione di cambiare casa Oppure Domani parlerò con il mio coinquilino Circa la mia intenzione di cambiare casa Quando tornerai in Uruguay Parlerai con la tua famiglia di me Vamos a ipotizzare una situazione In che Diciamo Una persona De Uruguay Se hai innamorato De un italiano De una italiana E l'italiano in questione O la italiana Si sta già preguntando Quando tu Regresserás a Uruguay Hablarás con tu familia de mí O te vas olvidar Quindi questa è una possibile situazione Quando tornerai in Uruguay Parlerai con la tua famiglia di me Quando tornerai in Uruguay Parlerai con la tua famiglia di me Quando regresserás a Uruguay Hablarás con tu familia de mí Giulio Presto Parlerà Tre lingue L'inglese Il francese E l'italiano Giulio Presto Parlerà Tre lingue L'inglese Il francese E l'italiano Giulio Pronto Hablarà Tre idiomas E l'inglese E il francese E l'italiano Congratulazioni Giulio Hai vinto un premio Te has ganato un premio Un applauso a Giulio Quindi Giulio Presto Parlerà Tre lingue L'inglese Il francese E l'italiano Lunedì Parleremo Con i nostri Colleghi D'università E gli chiederemo Aiuto Lunedì Parleremo Con i nostri Colleghi D'università E gli chiederemo Aiuto Seria Il lunedì Parleremo Con i nostri Colleghi D'università O di università E le spediremo Le spediremo S'aiuda Quindi Lunedì Parleremo Con i nostri Colleghi D'università E gli chiederemo Aiuto Tu E Lucia Parlerete Tutta la notte Vero? Ok Questa frase In realtà Tenia che essere La seconda Persona Plura E non Mestaliana Quindi A ver Che Puedano essere Dose persone Tu E Lucia Dice Hablaranno Toda la notte Verdad? Bueno Non lo sai Se iban a hablar Solamente Però Non lo sai Entonse la pusei Come vostè Vane a immaginare Quindi Tu E Lucia Parlerete Tutta la notte Vero? Tu E Lucia Hablaranno Toda la notte O hablarai E Nespagnol De Spagna Toda la notte Verdad? Tu E Lucia Parlerete Tutta la notte Vero? Ok Se Usted Chiede In commentare I Desilme Che Vano A Se Non lo sai Però Se Puede Immaginare Allora Poi L'ultima Frase I Nostri Genitori Parleranno Delle Bellezze Che Hanno Ammirato In Italia I Nostri Genitori Parleranno Acquarda In Secondo Blenne Parleranno Delle Bellezze Bellezze Belle Le Le Ze Che Hanno Ammirato A Chi Tambien Ammi Con Due M Ammirato In Italia Nuestros Padres Nuestros Padres Hablaran De Las Begezas Che Hanno Admirato In Italia I Nostri Genitori Parleranno Delle Bellezze Che Hanno Ammirato In Italia Domani Parlerò Con il mio Coinquilino Della mia Intenzione Di Cambiare Casa Quando Tornerai In Uruguay Parlerai Con La Tua Famiglia Di Me Giulio Presto Parlerà Tre Lingue L'inglese Il Francese E Italiano Lunedì Parleremo Con i Nostri Colleghi D'università E Gli Chiederemo Aiuto Tu E Lucia Parlerete Tutta La Notte Vero I Nostri Genitori Parleranno Delle Bellezze Che Hanno Ammirato In Italia E Adesso Andiamo A Vedere Un'altra Cosa Molto Importante Che Il Gerundio Presente Seria Gerundio Presente In Spagnolo Es Hablando In Italiano Parlando Parlando È Muy Similar Verda Hablando Parlando Termina In Ando Quindi È Bastante Similar Però Perché È Importante Il Gerundio Presente Non Tanto È Por Si Mismo Sino Por Lo Che In Spagnolo Talvez Se Llame Presente Progresivo O Presente Continuo O Continuo In Cambio Italiano Le Damos Il Nombre Perifrasi Progressiva Ok Perifrasi Progressiva Seria Il Presente Progressivo Come si Obtiene Come In Spagnolo Il Verbo Stare Io Sto Tu Stai Lui O Lei Sta Noi Stiamo Voi State Loro Stanno Mas È Il Gerundio Presente Del Verbo Neste Caso Parlando Quindi Io Sto Parlando Tu Stai Parlando Lui O Lei Sta Parlando Noi Stiamo Parlando Voi State Parlando E Loro Stanno Parlando O Sia Io Sto Parlando Tu Stas Hablando Etc Ho Preparato Alcuni Esempi Concreti Per Esempio Non Mi Disturbare Sto Parlando Al Telefono Non Mi Disturbare Sto Parlando Al Telefono Non Me Molestes Sto Parlando Al Telefono Quindi Come Pueden Ver È L'imperativo Della Prima Parte Che Lo Puse Solo Perché Queria Hacere Una Frase Completa Non Me Molestes In Italiano Se Costruye La Segunda Persona Singular De Forma Differente All Spagnol Come Pueden Ver Se Utiliza Il Verbo All Infinitivo Y Non De Negación Quindi Non Mi Disturbare Non Me Molestes Però Adesso Hice Una Lezione A Parte Si Chieren Se Pueden Comunicar Conmigo Allora Quindi Non Mi Disturbare Sto Parlando Al Telefono Non Mi Moleste Sto Parlando Al Telefono In Questo Preciso Momento Luca Sta Parlando Con Giulia In Questo Preciso Momento Luca Sta Parlando Con Giulia E Neste Preciso Istante Luca Sta Parlando Con Giulia Quindi Queste Sono Alcune Frasi Che Ho Inventato Per Voi Allora Una Frase Molto Utile Che Ho Lasciato Per Ultimo Che Dejado Por Ultimo E Una Frase Che Può Aiutarvi In Momenti Di Difficoltà Linguistica Si La Persona Sta Hablando Demasiado Rapido E Eso Suele Passar Con Algun Italianos Che Hablan Muy Rapidamente Entonces Tienen Dos Formas Una Informal Con Diciamo Del Rispetto Para Pedirle Alla Persona De Hablar Mal Lentamente E Come Si Dice In Italiano La Prima Frase Quella Formale Quella Di Rispetto Può Parlare Più Lentamente Per Favore Immaginense Ora De Stare Hablando Con Un Signor E Le Chiedere Impedire A Signor O Signora Di Hablar Más Lentamente Le Damo Lusted Quindi Può Parlare Più Lentamente Per Favore Mi Scusi Può Parlare Più Lentamente Per Favore Mi Scusi Può Parlare Più Lentamente Per Favore Disculpe Más Lentamente Por Favore Quindi Può Significa Usted In italiano Lei In italiano Si dice Lei Può Parlare Più Lentamente Per Favore E Questa E La Frase Formale Adesso Andiamo A Vedere La Frase Informale Con Le Le Damos Il Usted Osea In italiano Lei Terce La Persona Singular Che Sia Ombra O Che Sia Mujer E La Segunda Frase In Cambio Come Siamo Amigo Le Damos Il Tu No E Normal Che In Italia Normal Sobretutto Entre Personas Jóvenes Quindi Può Parlare Più Lentamente Per Favore Può Parlare Più Lentamente Per Favore Ok Queste Frasi Sono Molto Utili Quindi Annotatele Su Un Foglio Di Carte Potrebbe Sicuramente Essere Utile Durante Un Viaggio In Italia E Adesso Solo Per Ripetere Un Attimo La Considerazione Come Si Utilizza Questo Verbo Abbiamo Notato Che Principalmente Ok L'estruttura Con La Qual Se Illustra Se Utilizza Il Verbo Hablar Esta La Siguiente Parlare Di Qualcosa Con Qualcuno Hablar De Algo Con Alguien Lo Abbiamo Visto In Varie Occasioni Parlare Di Qualcosa Osea De La Tematica Con Qualcuno Osea Con La Persona Etcetera Hemos Visto Tambien En Una Occasion Quando Queremos Dirigirnos Ok A Alguien Che Hemos Utilizzado Tambien La Preposición A En El Caso El Jefe Del Datore Di Lavoro Se Si Non Me Chivoco Y Aver Parlare Di Parlare Di Equivale A Trattare Una Tematica Trattare Un Argomento Se Hablar De Significa In poca Palabra Trattare Una Tematica Un Tema Parlare Con Qualcuno Ovviamente Non Necessita Di Spiegazioni Ulteriori Perché È Molto Semplice Mentre Raramente Comunessi Antes Parlare A Con La De Preposizione Quando Cheremo Dirigirnos Quindi Rivolgersi A Qualcuno A Qualcosa Cheremo Dirigirnos Alguien In Particolare Ok Però Le Principali Forme Di Utilizzo Sono Con La Preposizione Di Parlare Di Una Tematica Oppure Parlare Con Qualcuno Parlare Con Luca Ok Con Una Persona Per E Ora La Sultima Cosas Che Sono Manera De Ser Tipica In Italiano Sono Nesta La Siguiente Ovviamente Se Tiene Che Con Ugar Parlare Sul Serio Parlare Sul Serio Significa Hablare In Serio Ok Hablare In Serio Se Disse In Italiano Parlare Sul Serio Parlare Da Solo Parlare Da Solo Significa Hablar Solo Digamos Che E' come Se Io Hablo Solo Come Loco Ok E Poi Un'altra Maniera Di Dire Un Modo Di Dire Parliamo Ci Chiaro Con Un tono Un poco Enfatico Parliamo Ci Chiaro Parliamo Ci Chiaro Hablamo No Sclaro No Come Si Hablano Claro Sin Mentira Sin Cosa Ok Quindi Parliamoci Chiaro Oppure Parlare Da Solo Oppure Parlare Sul Serio Sto Parlando Sul Serio E Sto Hablando In Serio Allora Ragazzi Io Realmente Ho Preparato Queste Frasi Con Tanta Amicizia Con Tanta Felicità E Spero Realmente Di Avervi Insegnato Qualcosa Di Importante Qualcosa Di Utile Realmente Vi Voglio Molto Bene Siete Molto Importanti Per Me Sono Sicuro Che Siete Persone Meravigliose E Vi Meritate Una Vita Felice Straordinaria Meravigliosa Io Vi Abbraccio Forte E Vi Do Un Grande Bacione Ciao A Tutti Da Marco Amici Vi Voglio Realmente Bene Un Bacione Ciao Ciao Ciao